quanto aveva fatto intravedere, abbiamo visto il lungo rinvio di Michael Rummenigge venuto a sostenere i suoi compagni di squadra, poi non scatta la trappola del fuorigioco Palas sull'uscita del portiere avversario, è lesto a battere completamente smarcato pareggio ed è 1-1 alla fine del primo tempo, stiamo per rivedere la fase conclusiva con il lungo lancio dalla tre quarti di campo, vedete in posizione regolarissima Palas batte il portiere in uscita